Ciao bella gente e benvenuti ai miei canali è solo Amal e oggi ho deciso di fare questo colore qua dunque io sono andata, stavo cercando il rosso l'ultima volta che ho colorato i capelli ho usato questa marca qua ho usato questa marca qua, Color Lux R66 il colore mi è uscito perfetto come volevo l'ho usato la seconda volta e mi ha fatto questo colore qua la stessa marca, lo stesso numero di colore non ho capito perché non è uscito, mi è uscito più Mogano che Rosso Fuoco e quindi l'altro giorno ero dall'usato in Italia e ogni tanto gli vendono dei pacchi grandi e ho trovato questo io questa marca l'avevo già utilizzata e do un ottimo risultato ho trovato questi qua allora ne ho presi due ho detto vabbè 3-4 euro mi faccio il colore quindi vado a lavarmi i capelli perché col riccio così non mi vengono bene preferisco lavarli e pettinarli da pettinati benvenuti benvenuti vado a lavarmi i capelli ci vediamo fra un attimo allora ho lavato i capelli sono più facili da pettinare sono più facili da pettinare allora dividiamo i capelli bene 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 Grazie a tutti. 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 Non so quanto tempo è passato perché ho ritirato tutta la roba del viaggio e tutto il resto. Ho una faccia veramente distrutta, sono stanchissima. E quindi niente, lavo i capelli e vi faccio vedere il risultato finale. Allora, ho lavo i tuoi capelli, adesso vi faccio un styling davvero molto veloci perché sono veramente, veramente, veramente rotta. Andiamo. Allora, ho lavo i tuoi 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 tuoi, questo qua è il risultato. da così a così mi piace tantissimo non è proprio un rosso fuoco però è un bordeaux scuro sinceramente mi piace mi piace decisamente e tra l'altro ogni volta che faccio la tinta i miei capelli esplodono mi piace tanto 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 a voi mi piace? se vi piace lasciate un like iscrivetevi al canale attiva la campanellina così vi arrivi a tutte le novità un bacione a tutti alla prossima e buona domenica a tutti ciao